La scelta di procedere al reclutamento della forza lavoro nel pubblico impiego attraverso le agenzie interinali, oltre a far accrescere lo stato di precarizzazione del lavoro, rafforza l'idea che in Basilicata tutto è funzionale alla logica di cancellare ogni forma di selezione e concorso che rappresentano il punto fondante dell'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione, violando i principi di trasparenza e del merito. Lo sostiene il consigliere regionale del gruppo misto Giannino Romaniello, riferendosi alla scelta del governo regionale e della maggioranza di ricorrere al lavoro interinale, con una gara del valore complessivo di circa 45 milioni di euro, per una durata di 4 anni che interesserà l'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, l'azienda sanitaria di Matera, l'ASP di Potenza, il CROB di Rio Nero e la regione Basilicata. Per Romaniello, in questo modo, il governo regionale, così come già avvenuto per il caso ARPAB, continua a perseverare in una logica tesa ad assecondare il consenso elettorale, anziché prefiggersi l'obiettivo di tutelare e potenziare i servizi pubblici da garantire ai cittadini.